Sarà per una legge così così che un po' concede e un po' riprende e sarà anche per l'attitudine delinquenziale di qualcuno. Fatto sta che l'universo dei cosiddetti canapastor rischia di prestare il fianco ad un altro universo ben più pericoloso, quello del traffico e dello spaccio di droga. Droga vera, intendiamoci. Non la canapa ridotto, contenuto di principio attivo, la cui vendita è consentita. A sbarrare la strada e i malintenzionati ci si è messa la Guardia di Finanza di Pescara, che dopo un'indagine lunga e complessa ha sequestrato quasi 37 chili di droga e arrestato una persona. Le indagini sono maturate durante i controlli effettuati nei confronti dei grow shop, negozi specializzati nella vendita di derivati della canapa, dove è stato rinvenuto un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana. L'obiettivo dei finanzieri è quello di tutelare la sicurezza dei giovanissimi in diversi settori di loro interesse. La droga sequestrata ad elevato principio attivo, una volta immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato circa 400 mila euro. Nel corso dei controlli sono state anche rinvenute circa 400 confezioni contenenti infiorescenze di canapa, la cosiddetta canapa light, peso complessivo oltre un chilogrammo, e di queste 230 sono risultate contenere sostanza con valori di principio attivo superiori ai limiti consentiti. A preoccupare è soprattutto la scoperta di un magazzino in uso allo stesso negozio e situato nei pressi, ossia nel centro di Pescara, dove erano occultati diversi panetti di hashish per complessivi 33,8 kg e di marijuana per circa 2 kg, oltre al materiale atto al confezionamento.